Sapete cosa è appena successo? Avete assistito al sovraccarico di un condensatore. Questo fenomeno si verifica quando la tensione applicata al condensatore supera la sua capacità nominale. Ciò può causare un aumento della corrente che scorre attraverso il condensatore e un aumento della temperatura che può portare al fallimento del componente. In particolare il sovraccarico può causare la rottura del dioelettrico interno del condensatore, il che può portare a una perdita di capacità e alla rottura del pezzo. Volete scoprire sempre cose nuove sul mondo che vi circonda? Seguite Ingegneria Italia.